A riposto la prossima settimana il Consiglio Comunale dovrebbe andare a chiudere i regolamenti sui diritti fissi di struttoria, su cui il Presidente della Terza Commissione Consiliare, Bilancio e Finanze, Saro Caltabiano, presenterà un emendamento e quello sulla pubblicità degli avvisi comunali, su cui maggioranza e opposizione hanno già predisposto una modifica congiunta. Le scaramucce degli ultimi giorni dovrebbero essere superate, anche se il clima è strutturalmente rovente dalle parti di via Archimede. All'interno della stessa maggioranza Enzo Caragliano è però riuscito a ricostruire un equilibrio. Il passo indietro di Carlo Copani, che avrebbe rinunciato nei giorni scorsi al posto in giunta, lo ha agevolato in questa direzione, con gli stessi senatori della coalizione che sembrano in questa fase abbastanza tranquilli. Adesso si aspetta che Caragliano torni a convocare la giunta. Il Sindaco deciderà lunedì quando riunire nuovamente i suoi assessori dopo il break della scorsa settimana. Il Sindaco deciderà lunedì quando riunire. Il Sindaco deciderà lunedì quando riunire.